La Dacia Loggi è la prima monovolume della casa rumena, che ha però potuto beneficiare delle profonde conoscenze specifiche in questo settore della Renault, alla quale appartiene. Rientra nella fascia media della categoria, con una lunghezza di 4 metri e 50 centimetri, ed è disponibile nelle versioni a 5 e a 7 posti, a prezzi così bassi da renderla praticamente senza rinali. La terza fila della 7 posti è formata da una panchetta, che può ospitare anche due adulti. Tenendola in posizione, il bagagliaio ha una capacità di 207 litri. Togliendola, il vano di carico passa a 827 litri e, lasciando agibili soltanto i due posti anteriori, arriva a 2617 litri. ESP a richiesta, motori benzina e diesel.